Ben trovati al meteo. Un fronte atlantico indebolisce l'anticiclone africano portando qualche pioggia. Si tratterà comunque di un passaggio instabile piuttosto rapido, ben presto, seguito da un miglioramento. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto cielo all'inizio per lo più poco nuvoloso, con ampie schiarite. Con il passare delle ore precipitazioni più probabili sulle zone montane e pedemontane, a carattere sparso invece altrove. Temperature in leggero aumento e gradevoli, minime tra 8 e 16 gradi, massime invece comprese tra i 17 e i 25 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia, Giulia. Anche qui cielo coperto, con piogge moderate e localmente anche abbondanti. Dalla sera in attenuazione a partire da ovest. Temperature minime sui 13-17 gradi, massime intorno ai 18-22 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui non cambia il contesto, sarà molto nuvoloso con rovesci diffusi di intensità anche forte. Temperature minime intorno ai 9 gradi, massime sui 21 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti.